Le attività giudiziarie del Tribunale all'Aquila ripartono oggi dopo l'incendio dei giorni scorsi, ma i sindacati della Funzione Pubblica sollevano dubbi sulla sicurezza. Anthony Pasqualone della CGL, Emma Libertini della CISL e Luca Antonio D'Angeli della Confsta all'Unsla hanno sollecitato un incontro ai vertici della Procura e della Corte d'Appello per un rientro in sicurezza. L'Arta, dopo l'incendio dello scorso 28 giugno, non ha rilevato particolari criticità, fatta eccezione per un corridoio sotterraneo e per un ufficio al primo piano. I sindacati però sollevano dubbi perché in base alla relazione del 5 luglio i rilievi e i campionamenti hanno riguardato solo il piano terra dell'edificio B. Di qui la richiesta di un incontro per rivedere il provvedimento di riapertura totale dell'edificio. Con un provvedimento di venerdì scorso è stata disposta la riapertura degli uffici a decorrere da oggi, senza che però le organizzazioni sindacali siano state completamente messe a conoscenza rispetto a tutti gli accertamenti effettuati, nutriamo alcuni dubbi, alcune perplessità a che appunto sia garantita complessivamente la salute di lavoratrici e lavoratori che riteniamo chiaramente basilare. A seguito di questo quindi abbiamo immediatamente chiesto un incontro con la dirigenza del Palazzo di Giustizia al fine di scongiurare qualsiasi tipo di attività che possa pregiudicare lo stato di salute di tutto il personale interessato che oltre che chiaramente all'utenza che vi farà accesso. Non comprendiamo questa fretta effettivamente anche perché da ciò che ci riguarda, da ciò che conosciamo, tutte le attività vengono comunque ad oggi garantite e vi comprese quelle strettamente urgenti. Secondo le prime ricostruzioni degli addetti ai lavori l'incendio si sarebbe sviluppato dagli impianti elettrici a causa di un cortocircuito che ha danneggiato la sala server che poi è quella fondamentale per il funzionamento di tutte le attività giudiziarie del Tribunale.